Il mio nome è Anna. Anna! Lo sapevo! La figlia di Gauke è tornata! Lo sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Ecco. Qual è Gauke? Tuo padre. Questo è mio padre? Mo, da dove comincio? Te la ricordi quella terribile inontazione 30 anni fa in Olanda? Tutta l'Olanda era stata sommersa. No, ma perché devi sempre esagerare? Mi amore, c'è un debole per il dramma. Ma fu una tragedia terribile, un disastro per tutti quelli che l'avevano vissuta. E per un uomo in particolare, ci stava tuo padre. Lui desiderava qualcosa di meglio per sé. In soli cinque giorni si è fatti in bicicletta dall'Olanda fino all'Italia. Mamma! È arrivato Gesù! È proprio lui! Vado. Olanda. Olanda, capitale della rarimarca. Gauke! 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 Zoccolo! Zoccolo! Vai! Vai! Come stai? Buongiorno. Mia moglie vuole conoscerti. È una moglie? Valla a cercare. Valla a cercare. Gauke! È bellissima. La tua madre era la donna più bella che avessi mai visto. Perché dovrai mentire? Continua. Gauke! Gauke! Avresti dovuto rimanere a casa tua, olandese. l'ho visto con i miei occhi. Gauke! Gauke! Ciao! Bravo Gauke! 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 Ma che fai? Mamma mia. Vado. Tanta la terra dei barbari viene.